Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vi parlerò dei tratti somatici degli italiani, vale a dire dei cosiddetti fenotipi italiani. In questo video andiamo proprio ad analizzare i principali aspetti somatici e quindi i principali fenotipi presenti in Italia. Premetto che chiaramente a livello scolastico e didattico vengono classificati in questo modo, poi molto spesso nella realtà quotidiana c'è ovviamente una commistione tra tutte queste varie tipologie, chiaramente, perché ci sono ovviamente delle ibridazioni tra le varie persone sostanzialmente. Abbiamo quindi il Mediterraneo, l'Atlanto Mediterraneo, l'Alpino, il Berid, il Dinarico, il Nordico e il Nord, Cromagnoide e l'Armenoide, che come vedremo appunto questi ultimi due in Italia, sono presenti soltanto sotto forma di piccoli influssi. Partiamo subito dal Mediterraneo classico, si sente sempre parlare la cosiddetta bellezza mediterranea e così via. Il fenotipo mediterraneo non si trova ovviamente solo in Italia, noi in questo video vedremo i fenotipi italiani, ma il fenotipo mediterraneo si trova in tutti quei paesi che, diciamo, si affacciano nel mar Mediterraneo, quindi a livello del bacino del mar Mediterraneo ed è il substrato principale della nostra penisola. Tuttavia non è così semplice come sempre a parlare di fenotipo mediterraneo perché ci sono poi tre tipologie, tre sottogruppi di fenotipi mediterranei, come vedremo. Questa attrice italiana è proprio un tipico esempio di individuo mediterraneo. Abbiamo appunto come prima tipologia di Mediterraneo, che poi d'altronde è quella più frequente e più comune, il cosiddetto West Mediterraneo o Mediterraneo Gracile ed è più frequente soprattutto in Sardegna e nel sud dell'Italia, che è caratterizzato da una corporatura esile ed è per questo motivo appunto che viene denominato come Mediterraneo Gracile e da una statura media o anche medio-bassa. Il cranio non è troppo corto, di solito o è nella media oppure tende ad essere allungato, quindi si parla o di cranio allungato, cioè dolicocefalo, o di cranio nella media e quindi di cranio mesocefalo. La faccia può essere allungata o essere nella norma e quindi per questo motivo si parla di leptoprosopia nel momento in cui appunto la faccia è allungata o di mesoprosopia se la faccia appunto è nella media. Il naso è essenzialmente dritto di solito e la mandibola e il mento sono pronunciati. Chiaramente se volete approfondire tutte queste informazioni potete leggere i testi di Kuhn o anche il trattato di antropologia di Capasso, bellissimo libro che vi consiglio di leggere. Ovviamente il West Mediterraneo rientra in quella parte dell'umanità l'eucoderma, cioè sono ovviamente individui con pelle chiara, però è chiaro che la pelle chiara, la pelle bianca come viene definita, non è bianca in modo uguale a tutti. Ci sono varie tonalità ovviamente di bianco e il West Mediterraneo tende praticamente verso l'olivastro come colorazione. I capelli sono neri o sono anche castano scuro e gli occhi di solito sono castani. E mischilla è un classico esempio di West Mediterraneo, Mediterraneo gracile. Chiaramente un altro aspetto che mi pone, che mi preme sottolineare è che una caratteristica del Mediterraneo è che alla nascita molto spesso è caratterizzata dalla presenza del biondismo e degli occhi celesti. Poi questi capelli e questi occhi con lo sviluppo somatico tendono praticamente a diventare più scuri. Io rientro infatti nella categoria del West Mediterraneo, perché io stesso da piccolo ero biondo con gli occhi celesti e poi chiaramente crescendo ho appunto avuto una modifica del colore degli occhi e anche del colore dei capelli. Poi c'è l'Est Mediterraneo, che è diverso dal West Mediterraneo, molto simile comunque sia al precedente, ma ha dei tratti somatici, degli aspetti del volto più esotici, perché è una variante che origina dal Medio Oriente e poi successivamente si è andata a diffondere in quelle aree ed è più frequente soprattutto nel sud dell'Italia. E ovviamente queste due categorie in Italia sono abbastanza ibridate e spesso risulta anche difficile andarle a distinguere. Poi abbiamo il cosiddetto terzo sottogruppo dei Mediterranei, che è l'Atlanto Mediterraneo, dove il capostipite per capirci di questo gruppo può essere Elisabetta Canalis, per esempio. Ovviamente rientra tra gli atlantici questo sottogruppo, ma come dice il nome stesso ha delle caratteristiche mediterranee ed è un tipo mediterraneo che si è formato appunto sulle coste atlantiche con conseguente successivo adattamento climatico. Diciamo che a differenza del Mediterraneo, diciamo gracile, ha una statura più elevata, ha una struttura fisica più robusta e ha una pigmentazione cutanea leggermente più chiara rispetto ai fenotipi precedenti, anche se comunque sia rientra nel gruppo umano della leucodermia. È frequente maggiormente in Nord Italia, soprattutto in Liguria e anche in Toscana. Qui potete proprio vedere questo tipo di fenotipo, l'Atlanto Mediterraneo. Poi un altro fenotipo presente in Italia è appunto il cosiddetto fenotipo alpino. Per poterci intendere, Francesca Michelin può essere assimilata al cosiddetto fenotipo alpino. Il fenotipo alpino è una tipologia cromagnoide, cioè che deriva appunto dall'uomo di cromagnone dal punto di vista bioantropologico ed evolutivo, ma poi si è diffusa in tutta Italia concentrandosi diciamo soprattutto al Nord e anche al Nord-Ovest dell'Italia. È caratterizzato da una bassa statura e da una corporatura a volte tozza. In più ha una tendenza alla pinguedine, cioè una vistosa abbondanza di adipe soprattutto a livello del volto. È un soggetto con un cranio brachicefalo, quindi con un cranio corto. Alle volte può essere presente il taglio degli occhi a mandorla, ovviamente non sono gli occhi a mandorla degli asiatici, intendiamoci, però chiaramente ci può essere un accenno di questo tipo di occhi. Sono ovviamente individui leucodermi con capelli castani, occhi castani o alle volte anche verdi. Diciamo che la biodiversità umana è chiaramente affascinante, osservare le differenze tra i vari individui è molto bello e molto interessante. Poi abbiamo anche il Berid come fenotipo presente anche in Italia ed è appunto un'evoluzione di una tipologia arcaica cromagnoide che è quasi sempre presente in Sud Italia ma anche in Sardegna. In Sardegna viene definito diciamo da noi antropologi come paleosardo e risulta essere diciamo quasi assente al nord Italia. Ho sbagliato qui dove ho scritto appunto quasi assente al sud Italia e quasi assente al nord Italia mentre al sud e nelle isole quindi soprattutto in Sardegna è maggiormente presente. Ha delle caratteristiche bioantropologiche simili a quelle degli alpini ma la pelle tende ad essere più scura, i tratti ossei sono più marcati, la mandibola è più scolpita e gli zigomi sono anche più pronunciati. Il naso presenta comunque sia una curva più marcata rispetto agli alpini. Qui vedete appunto Che Guevara tipico Berid però in Italia diciamo alcuni individui con queste caratteristiche si ritrovano così come si possono ritrovare anche i dinarici come appunto fenotipi. Il fenotipo dinarico è un fenotipo caratterizzato da una elevata statura e da una brachicefalia cioè da un cranio corto ma ha una faccia allungata quindi una cosiddetta leptoprosopia. Sono individui con una corporatura slanciata ed esile e quindi sono ectomorfi e la mandibola è stretta ed è anche inclinata verso il basso con il mento spinto indietro e quindi retruso. Come potete vedere Zlatan Ibrahimovic è un classico esempio ma anche quest'altro individuo qui a sinistra vedete proprio come è conformato il cranio, come è conformata la mandibola, come è particolare la fronte che è dritta, come ha appunto il naso, il naso diciamo è proprio caratteristico, questo è il naso di un dinarico, anche lo cipite è piatto sostanzialmente, anche Laura Pausini rientra in questo gruppo. Ovviamente rientrano nell'umanità l'eucoderma ma sono chiaramente più scuri rispetto ai gruppi precedenti, è presente in Europa anche in generale nei Balcani, infatti prende proprio il nome dalla zona delle Alpi dinariche, ma è presente ovviamente anche in Italia perché oramai le popolazioni umane si sono ibridate tra di loro e come vi ho detto prima è difficile molto spesso distinguere un Mediterraneo gracile da un Atlanto Mediterraneo e così via. Ovviamente il dinarico è il frutto della fusione tra cacciatori e raccoglitori cromagnoidi presenti nei Balcani e agricoltori giunti in Europa dall'Oriente nel Neolitico di tipologia mediterranea, quindi si è formato questo nuovo fenotipo che è il fenotipo dinarico. In Italia i dinarici si stima che siano appunto giunti in epoca preistorica alla ricerca del metallo e quindi poi si stanziarono praticamente nella pianura padana per poi discendere la penisola italica lungo il litorale adriatico, andando appunto a costituire il cosiddetto ceppo adriatico, quindi lungo le coste del mar adriatico questo fenotipo si può riscontrare assieme anche al fenotipo mediterraneo, spesso anche commisto con il fenotipo mediterraneo e così via. Il fenotipo nordico è presente in Italia ma è raro, si può trovare in Toscana, in Trentino-Otto Adige, in Veneto, alcune analogie con i mediterranei come il naso dritto, la mandibola e il mento pronunciati, la dolico o la mesocefalia e la leptoprosopia, ma ha anche delle differenze con questi ultimi, come appunto il fototipo cutaneo molto chiaro, i capelli castani o biondi e gli occhi generalmente chiari. Poi ci sono altri fenotipi rari in Italia che sono presenti soltanto come influssi, se vogliamo, come il cromagnoide e l'armenoide. Il nord cromagnoide non va confuso con il nordico, quest'ultimo lo si ritrova soprattutto nel nord e nell'est dell'Europa, ha una statura elevata ed una corporatura robusta ed è anche mesomorfo. Gli occhi sono verdi azzurri o azzurri, i capelli sono castano chiaro, rossi o biondi e abbiamo o una dolicocefalia o una brachicefalia, quindi l'indice cefalico in tal caso è molto variabile. La struttura ossea facciale risulta essere prominente e la mandibola è scolpita e con degli zigomi pronunciati. Sono più frequenti nelle aree settentrionali dell'Italia che nel corso della storia sono state germanizzate. Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi conquistarono ovviamente una buona parte del nord dell'Italia e si bridarono ovviamente con molti italiani e di lì che poi questo diciamo ceppo nord cromagnoide è presente appunto come influssi, se vogliamo. Poi abbiamo l'armenoide che è presente al sud Italia ma non va confuso con il dinarico perché appunto come il dinarico ha lo cipite piatto. È endomorfo, ha un indice facciale basso e un mento maggiormente sfuggente. Interessante poi un lavoro fatto da Livi su 300.000 militari italiani dove appunto vide che come variava la statura e come variava l'indice cefalico sostanzialmente al nord Italia rispetto anche che al sud Italia. Praticamente vide che la statura ovviamente in media era più elevata al nord Italia rispetto che al sud Italia. Ovviamente adesso oggi come ho parlato sul mio canale ci sono diciamo dei dati più recenti forniti dall'Istat per quanto riguarda le stature italiane. Ho fatto diversi shorts per quanto riguarda la statura, ho fatto anche uno short sulla statura in Italia quindi se sei interessato vai ad approfondire lì. Chiaramente tutte queste informazioni hanno uno scopo puramente informativo, non hanno scopi appunto di discriminare e così via. È una semplice descrizione delle caratteristiche insomatiche che tutti quanti noi possiamo vedere appunto negli individui. Però come vi ho detto prima questi fenotipi possono essere ibridati tra di loro e molto spesso è anche difficile determinare qual è il fenotipo di un individuo proprio perché ci sono appunto delle ibridazioni. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Condividi questo video con altri utenti per rendere sempre più utile questa community. In uno dei prossimi video di questa serie parlerò proprio dei popoli e dei fenotipi europei. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!